Allora, non sto benissimo, non sto benissimo per niente, però su weekly lo dovevo fare perché stasettimana sono successe tante cose, di tante cose dovevo parlare e poi ci dobbiamo fare gli auguri, anche se per domani, per domani un unboxing clamoroso, però la vigilia di Natale, l'unboxing più grande del canale, no, un unboxing, però bello, un unboxing bello, domani, casomai ci viene pure Anna a fare il video con me, non lo so, vediamo. E la sigla dove sta? Bentornati cari vettori, come state? Spero tutto bene, io sono Luca DJ, questa è l'altra vita, qui parliamo di fumetti e di cose nerd e io ho la maglia di Natale, si vedono le lucine, ci sono proprio le lucine alla maglia di Natale, si vedono, forse me la sono messa pure l'anno scorso, è vecchia, è vecchissima, è brutta, è tutta quanta storta, eccetera, eccetera, ma mi ricorda i primi Natali con Marco e Anna e quindi la tengo. Sì, c'è un cambio, c'è un cambio di passo, prima si cercavano le cose nuove, adesso si cercano le cose che ricordano qualcosa, in particolare, e questo è un segno di essere ancora giovani. Sì, venite più vicino, allora, a parte questa cosa qua che ci accomuna tutti. Che è successo stasettimana? Di che cosa dobbiamo parlare di questo weekly? Raga, io non so nemmeno dove inizia, perché è successo di tutto, è successo il mondo, quindi che so, iniziamo dai video, che so, la cosa più importante, anzi no, iniziamo da voi, che siete la cosa più importante. Questa non me l'ero preparata, quindi me la devo preparare al volo, ma ci metto un attimo, perché? Beh, perché questa settimana si è aggiunto un nuovo abbonato al canale, io sono contento, anche perché anche lui è un collega, i colleghi mi vogliono bene, di questo non posso che esserne felice, e quindi vi faccio vedere anche lui, ovviamente, come abbonato sul canale, eccoli qua, tutti quanti, iniziamo da loro, che sono quelli che mi offrono il caffè durante il mese, un caffè insieme, ce lo prendo volentieri, fino a quando non ce lo prenderemo assieme in fiera. Con tanti di loro ce lo siamo presi in fiera? Con alcuni no, purtroppo. Allora, volevo salutare innanzitutto BanditXP, che è un collega, è un amico youtuber, e che mi fa piacere appunto che si sia abbonato, e si è abbonato apposta per vedere, credo, anche una preview di un video in anteprima, perché i miei video adesso vanno in anteprima agli abbonati del canale, in anteprima di qualche ora, non di tantissimo, non voglio penalizzare nessuno, neanche chi appunto non ha la voglia o la possibilità di offrirmi un caffè, perché ci può stare, anche perché questi budget sono budget fissi, quindi se già hai premiato un altro canale, perché premiare a me? Poi io ce ne stanno tanti canali buoni. Ma a parte questo, ringrazio BanditXP appunto che si è abbonato due giorni fa, poi Tex Wheeler da due mesi, Robby Halle da quattro mesi, Giuditta Euloferne non è da un mese, è da di più, perché mi dici soltanto un mese? Vabbè, comunque poi Antonio De Rosa, Matteo Iubatti da due mesi anche loro, poi Lettuo Horizon da tre mesi, Giancarlo Di Domenico, Mirko e Alessio da quattro, Lallo Ruggeri da cinque, Antonio Guacci, Andrea P da sei e Flippo 80 full da sette mesi, sette mesi che mi offri il caffè. Ma io dico, ma io dico, grazie, 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 poi ti offro un cappuccino io quando ci vediamo, se ci vediamo, sarei contento, sarei contento appunto, vediamo le fiere di questo 2024. Allora, però, andiamo, andiamo avanti, andiamo avanti con il programma, appunto, che cosa è successo questa settimana sul canale? Allora, sul canale che è successo? Che ha pubblicato una serie di video, in tutto, quanti ne sono? Uno, due, tre, quattro, cinque video lunghi, perché appunto, non stando tanto bene, non l'ho potuto pubblicare uno al giorno dei video lunghi, e una sequela di e-shirt, che corrispondono ai video che pubblico su Instagram, quindi se vi interessa seguitemi pure in là. Allora, abbiamo visto Zombicide, finalmente Zombicide Black Plug, Plague, Piaga Nera, alcuni dicono Peste Nera, ma no, non è la peste, perché in realtà questi sono non morti, quindi è una cosa un po' strana. Che è un ottimo D&D di Vietti, un ottimo fumetto al D&D di Vietti, se vi va di dargli un'occhiata, perché è il classico fumetto che è in collaborazione con appunto la Zombicide, e ne esce uno l'anno, non è sta grossa cifra, però effettivamente è un bel fumetto, c'è da aspettare, ogni anno è. Non è sta grossa cifra, si riferisce al fatto che se te lo sparmi per un anno, sono due euro al mese, che pochissimo non è, perché sti cosi costano 20-22 euro, però ormai i cartonati stanno a quel prezzo, noi ci possiamo mentire. Poi ragazzi, il D&D, un D&D per due, che è arrivato un po' tardi, proprio per i tanti impegni del canale, infatti ha fatto meno visualizzazioni di quello che mi sarei aspettato, sinceramente, è sempre l'old boy più visto la recensione, la chiacchierata sull'old boy più vista di YouTube Italia, però meno del solito, è un po' mi dispiace, perché questo old boy merita, merita. Ci sono anche un paio di consigli, non li voglio chiamare consigli, che sanno appunto di saccenza, di idee che lancio a Franco Busatta per, non dico migliorarlo, perché anche lì sa un po' di saccenza, per, stavolta non mi viene la parola sul serio, per dargli quel cammino, quel cammino che i prodotti editoriali devono avere, non possono restare statici, no? Quindi un po' per riformarlo ogni volta di un pochino, no? E sono 22 numeri che sta così, oltretutto è bimestrale, quindi sono presente quattro anni, piano piano cambiamo, e poi c'è una bellissima tavola di Paolo Baciglieri che ricorda il maestro Carlo Ambrosini, anche solo per quello va tenuto. E poi è uscita la bomba, è uscita la bomba, ne parleremo tanto, io ci ho fatto un video, guardate quante visualizzazioni ha fatto il video su Samuel Stern, fra virgolette su Bugs, i video di Bugs ragazzi non sono più come una volta, non hanno più quel riscontro da voi lettori, io adesso questo non so se è una cartina al tornasolo appunto dell'attenzione su alcuni personaggi di Bugs, oppure semplicemente se siete stufati di me che parlo dei Bugs, perché voglio dire che possiamo fare una statistica su un video di un DJ che parla. Però sto video ci ha avuto una eco clamorosa, e di qui anche il nostro peggior vizio di essere curiosi delle sventure degli altri, perché quando i video ci hanno titoli un po' cringe, un po' tristi, un po' tirati, ci hanno più visualizzazioni. E il problema non è il mio, è il problema vostro che ve li guardate, quelli e non gli altri. Perché? Perché gli date una priorità, perché il tempo è limitato, quindi gli date una priorità a quel video. Perché? Perché vi interessa più questa cosa qua, o io dico vi interessa, eccetera eccetera, ma probabilmente quelli che stanno vedendo su DJ Wilkley sono quelli che si vedono tutti quanti i video del canale, quindi è una riflessione generale, non sto a puntare il dito su nessuno, lo faccio anche io, quindi. Però è un dato di fatto, un dato di fatto incontrovertibile, al quale dobbiamo dare un peso, altrimenti, eh beh, non riusciamo a essere obiettivi. Ok? Quindi ne parliamo dopo. Massignano Filadoro lascia Samuel Stern, lascia Bugs Comics, non lo so, questo non l'ha detto, lui ha detto che lascia Samuel Stern. Non so se è impegnato nella Bugs Academy, cioè l'accademia di sceneggiatura, scrittura, eccetera, di Bugs Comics, che è anche online e che alcuni amici frequentano, frequenta Manuela Delle Tua Horizon, mi pare, non so se è soltanto lei, e anche Fabio, non mi ammazzo, credo, credo. Perché? Beh, perché si vogliono migliorare, fanno bene, è una cosa interessante, non la sto sponsorizzando, sto semplicemente dicendo che quando c'è la possibilità di migliorarsi, raga, approfittatene sempre. Possibilità, dico, in quanto a spazio, tempo e a capacità economiche di poter affrontare la spesa, perché la Bugs Academy, ovviamente è un'iniziativa a pagamento. Ne parliamo dopo, vediamo il botto e risposta tra Massimiliano Filadoro e l'altro creatore di Samoesteggio, Marco Formasoli, nonché proprietario della casa editrice, e vediamo anche come hanno trasformato il sito internet e come stanno trasformando la casa editrice, più tardi. Poi, pacchini da tale da Climax Comics e dell'Aviatan Labs, io ringrazio tantissimo gli amici di Climax Comics, prima o poi imparerò a dirlo, perché? Perché fanno dei pacchi stupendi, perfetti, precisi, non sgarrano una volta e arrivano pure velocemente. Io ho dei codici sconto, ma non ci guadagno una lira. Loro mi mandano il pacco, i fumetti che vedete, ovviamente non li pago, è una collaborazione da sto punto di vista, ma sono contento di avercela perché sono puntuali, sono precisi, sono seri e ti riescono a ritrovare anche un sacco di fumetti che casomai tu non riesci a trovare. Ribadisco, non ci guadagno un euro. Mi mandano dei fumetti che comunque avrei recuperato, anzi poi facciamo anche un bel video su le serie che ho finito anche grazie a Climax Comics. E gli amici Leviatani invece mi hanno mandato delle novità che stanno introducendo, di cui poi vi parlerò perché c'è un nuovo numero di giallo che è interessante, mi perdoneranno, non ai livelli dei precedenti. Io purtroppo ho letto tre storie su quattro, la quarta è divisa in tre episodi, quindi devo leggere prima gli altri due, ma non mi ha convintissimo. Però poi ne parliamo meglio. Ed infine, il drago nero che somiglia al Tex Wheeler in modo positivo. Perché poi anche qui, Tex Wheeler in stile fantasy, ad un passo da Tex, tutti quanti a dire, eh no, vabbè, ma perché che c'entra? Eh vabbè, ma che... era in modo positivo. Ragazzi, Tex ha fatto la storia della comunicazione. E vedere un fantasy che riesce a parlare in modo western, un po' come aveva fatto... Ma voi ve lo ricordate il Mandaloriano, The Mandalorian? Quello è un western, nello spazio, ma è un western. Puro, dalle colonne sonore, alle ambientazioni, ai personaggi. E fa benissimo così. Farci un fantasy significa averci una gran bella penna, nonché una gran bella matita. Molto bello. Nelle shorts ci siamo un po'... ci siamo un po' sbizzarriti, perché questa settimana ci sono state... adesso non mi va su shorts, cioè... Dai! Ma dai! Ma perché? Ok. Perché siamo partiti da un video che pensavo che non facesse tutto sto clamore. Io ho letto il fumetto della scorsa decada, edito nella scorsa decada, mi pare il 2014, non vorrei sbagliarmi, di Fabio Ambu. Yosif 1900... Ehm... ritrovarlo adesso. Yosif... Dove ce l'ho? Io ogni tanto sposto le cose in questa libreria, e poi non ritrovo più nulla. Comunque, Yosif 1900... 1971, cos'è il gemi? Ehm... No, 1951. Andai a ritrovare il video, perché c'è il video lungo, è carino. La particolarità è che quel matto furioso di Fabiano, che ha fatto? Ha... Si può dire perculato... Dai, si può dire perculato, si può dire... Ha preso in giro, ha preso in giro, ha preso in giro, ha preso in giro... Ehm... I lettori di manga, ma in modo... Ma in modo genuino, in modo tranquillo, in modo normale, mettendo all'inizio del volume, un po' come fa Star Comics e J-Pop con i suoi volumi, come si legge un volume occidentale. E quindi dice, questo volume si legge da sinistra verso destra, si apre in questo modo, le vignette si leggono così. È esattamente speculare quello che fanno J-Pop e Star Comics nei loro manga per far approcciare quelli che non hanno mai letto un manga. Ma ormai è talmente palese che tutti leggono manga, il fumetto italiano se lo fila, molta meno gente, che forse c'è bisogno del contrario, per abituare chi ha sempre letto manga a leggere all'occidentale. E' un gioco, ragazzi, ma perché ve la dovete prendere per tutto? Sembra veramente che vi tirano in ballo un affetto, un affetto. Sembra che vi tirano in ballo un affetto. Raga, è un gioco, vabbè, andiamo avanti. Poi, anche perché, io faccio la stessa cosa con Tex. Quante volte dico che quando una cosa è vecchia dico Tex? Ma no perché ritengo che Tex sia un fumetto sempre per vecchi. Ragazzi, ma le vedete le mie recensione? Il problema è che certi arrivano puntati perché l'algoritmo ce li manda a sta cosa. Vedono solo quello e pensano chissà che. Ma non è così. Vabbè, andiamo avanti. Questo mese Nathan Never è un gran Nathan Never perché deriva da questo Bentornato Capitano Futuro, che è il titolo del mio video, ma in realtà si chiama La Terra si Frantuma, che viene da un soggetto di Luca Parmitano, l'astronauta, l'ex capitano della Stazione Spaziale Internazionale. Sì, quella che in modo è una batta e spende un sacco di soldi perché è vecchia, però tanto succede. Con il ritorno alla penna di Nathan Never, niente poco di meno che di Antonio Serra. Era dal numero 250 che Antonio Serra non si occupava attivamente di Nathan Never, della testata principale. Torna, nella serie regolare, torna con un cartonato bellissimo, disegnato splendidamente da Sergio Giardo. Perché, come disegna Nathan Never, Sergio Giardo, non lo disegna nessuno. Forse, forse ragazzi, soltanto Max Dall'Olio. E qua bisogna dargnene atto, non togliendo nulla a tutti gli altri, però effettivamente sono quelli che hanno la penna uno più supereroistica, l'altro più orientaleggiante, la tecnologia lo sappiamo, ti dà quel senso di manga, no? E ce lo ricordiamo nell'ultimo numero che ha fatto Max Dall'Olio, che è strepitoso. Poi, vabbè, in lo short sulla fine di Simulacri c'è anche il video lungo. L'invettiva di Prince contro l'editorio. Ho trovato un bel video di Radio Capital, in cui Prince, a suo tempo, diceva che purtroppo l'industria musicale era prigioniera dei manager che non ti fanno fare quello che vuoi fare, ma vogliono fare soltanto i soldi. E quindi fanno remix, re-tape, eccetera, eccetera. E' esattamente quello che succede nel mondo del fumetto, con due zeri di meno negli assegni che si staccano a tutti quanti quelli che ci lavorano, perché, voglio dire, restiamo nerd, voglio dire, le vere industrie sono quella del calcio e quella musicale, per quanto riguarda l'intrattenimento in Italia. Il cinema, il videogioco, sono tutte quante molto, molto inferiori. E non ce lo possiamo nascondere. Anche quella delle serie TV, eccetera, anche quella. Poi, notizia bomba da Bonelli. Anche questo qua andiamo ad approfondire. Bonelli gli hanno dato un premio, e in questo premio sono riusciti a farsi uscire una cosa che non avevo mai detto, e poi ne parliamo meglio. E infine, Samu Esterno e Calia in versione porno-lusso. Eh sì, è vero, non è un titolo ad effetto. Ne parliamo in quanto, parliamo un po' di quello che sta succedendo nel fumetto italiano, in Vax Comics. Stanno, succede un po' di cose strane. Dobbiamo, dobbiamo vedere questa cosa qua. Però, io c'avevo nel frattempo, avevo fatto una cosa, ma forse me la sono persa. È questo? Se è questo... Ah, sì, è questo qui. Però, voglio introdurre il secondo capitolo con una cosa importante. Anzi, no, prima di sta cosa importante. Questa è veramente una cosa bomba, eh. Perché introduciamo il capitolo su l'editoria, che cosa è successo in questo 2023 per l'editoria, in base ai rapporti del 2024 di Bonelli. Bella tosta, bella tosta. Andiamo a fare un po' di cose. Io vi volevo ricordare l'evento più interessante di quest'anno. Poi lo metterò tra i top e flop di quest'anno. Che è l'agurio di Natale di Sergio Bonelli, editore, che mi hanno mandato loro direttamente. No, non è l'agurio di Natale, ragazzi. Ci avevo scherzato su questa cosa. Purtroppo è la stampa, bella per carità, un bel disegno, ma ovviamente tutta stampata, anche nelle firme, non sono firme autografe originali, che mi hanno mandato per chiedere scusa del fatto che il videogioco di Dragonero fosse in ritardo di più o meno di sei mesi dal tempo di sviluppo. Io sono un founder del videogioco di Dragonero, quindi hanno mandato questa stampa qui con una lettera normale, senza alcun tipo di cartoncino per tenerla, oltretutto in un periodo in cui piove, è umido e è un casino, per cui è questa qui la stampa. Voi mi direte, vabbè, mettila sotto a un libro e non ti lamentano. No, perché certe cose, certe cose bisogna lamentarsi. Di certe cose bisogna lamentarsi, perché significa una scarsa attenzione. Una scarsissima attenzione. Chi diavolo ha dato l'ok a spedire queste cose in Sergio Bonelli, editore? Io lo vorrei tanto sapere, perché non è possibile. Cioè, non è possibile fare una spedizione così. E non me ne lamento soltanto io, se ne lamentano anche altri, ma soltanto io ci metto la faccia. Come sempre. Soltanto io ci metto la faccia. Purtroppo. Tutti a lamentarsi, tutti a dire, anche in privato, ma soltanto io a metterci la faccia. Vabbè, non fa nulla. Comunque, dato il successo che ci ha avuto il videogioco di Dragonero, che da quando è uscito, in forma ufficiale, perché ormai è uscito in forma ufficiale, ha il canale Discord completamente muto, ormai sono più... Eh, ormai è più di un mese e mezzo che non scrive nessuno sul canale Discord, e l'ultima cosa che ho scritto io a metà novembre erano ma quando me la mandate la stampa? Perché quelle prima di quelle che avevo scritto io a metà novembre erano di agosto. La gente si chiedeva ma quando lo fate la versione finale di sto gioco? Ormai è un anno e qualcosa che circola. Eh, in beta. Come al solito, non è andata bene, mi dispiace. Anche se ho visto i bilanci di Opera Ludica, che sono pubblici, che, ragazzi, hanno quadruplicato le entrate quest'anno. E praticamente editano soltanto questo. Quindi probabilmente è stato questo accordo in collaborazione con Sergio Bonelli, editore, e i tanti che l'hanno acquistato in versione founder. Anche se, purtroppo, mi dispiace, hanno quadruplicato il fatturato ma hanno diminuito l'utile. Forse anche perché hanno dovuto impiegare forza lavoro per gestire il gioco. Eh, so cose che cambiano. Mi dispiace. Allora, notizia bomba. Parlando di bilanci, tornando a parlare di bilanci, vi tolgo da sotto il sito, così almeno non ci sta sta cosa qua. Mi sono scaricato quello che dovrebbe essere a tutti gli effetti il conteggio finale del fatturato non scorporato, perché non mi sono andato a comprare il bilancio. Perché si possono comprare il bilancio delle società per azioni e anche delle SRL online. Ci sono visure apposta perché sono pubblici. Quindi ci sono proprio dei servizi online che costano tipo 17, 20 euro o una cosa del genere. Non l'ho fatto. L'hanno fatto gli zagoriani sulla rivista Zagorianità. C'è un articolo, non mi ricordo di chi, probabilmente voi lo sapete meglio di me, che l'analizza. Io non l'ho potuto vedere perché la rivista è soltanto cartacea, non c'è online. Non ho avuto il tempo di starla a chiedere, può darsi pure che se la chiedo me lo danno. Casomai la chiederò, vedrò un attimo se potranno darmi anche soltanto quell'articolo per analizzarlo e per riportarvelo un po' a voi nei prossimi giorni. Comunque, comunque, a spanne, molto a spanne, il dato principale e più preoccupante è che dopo un ottimo 2020 in cui si era recuperato parecchio, è più basso del 2019, ma sappiamo tutti che c'è stato il Covid, un incredibile 2021 che riportava il bilancio a poche centinaia di migliaia di euro da quelle del 2018, ebbè, c'è stata una bella flessione nel 2022, c'è stata una bella flessione, ma ancora di più c'è stata una bella flessione degli utili, perché se il bilancio è sceso del soltanto il 2,51%, quindi non tantissimo, ricordiamoci che quest'anno comunque Bonelli ha dovuto affrontare due cose, tre cose importanti, due cose importanti, l'anno scorso gli 80 anni di Bonelli, quest'anno però ha dovuto fare i 75 di Tex, i 40 di Martimistari quest'anno era l'anno scorso, i 25 di Giulia, cioè comunque ha dovuto fare un po' di cose che forse gli hanno portato via utile, e infatti l'utile è crollato, l'utile generale, ora io non so come se leggono i bilanci, però magari voi mi aiutate, ma averci un meno 44 e 47%, un utile più basso di quello del 2020, in cui si erano fatturati quasi 2 milioni di euro in meno, boh, a me non mi sembra tutta sta bella cosa, oltretutto quest'anno sono stati presentati un sacco di prodotti nuovi, come il secondo cartone animato, la seconda stagione del cartone animato di Dragonero, la prima stagione del cartone animato di Martimistar che ho fatto vedere anteprima io, a giugno me ne ho dissi che arrivavano, il sera al tv di Dylan Dogg che dovrebbe arrivare a breve, ormai è in fase di scrittura avanzata la sceneggiatura nei primi episodi, che altro c'è stato? Vabbè, c'è stata tutta una serie di iniziative, le mostre, eccetera, eccetera, quindi, però, boh, non lo so, a me sti dati visti così un po', un po' un po' grezzi, mi fanno, mi fanno, mi fanno specie, mi fanno specie anche perché, è vero che sono due misure, due, due leveraggi completamente diversi, ma mi fanno specie anche perché, poi io ci metto insieme quello che sta succedendo in Bugs e due domande me le faccio, in Max Comix sta succedendo questo, hanno rifatto il sito e hanno creato il Bugs Friends Club, nel cuore, benvenuti nel cuore di casa Bugs, come racconti è più importante di cosa racconti? A me sta frase mi mette i brividi perché la leggo in un certo modo, poi magari mi sbaglio, ma io la leggo per, come dire, è più importante la confezione che il contenuto, anche perché stiamo parlando di un'iniziativa, e qua ve la spiego, che vede la ristampa in grande formato cartonato di alcuni dei volumi delle serie Bugs, delle serialità dai dico la Bugs, quindi, per questa prima cosa prevede questo qui, che è il cofanetto ristampato con due, che credo siano cartonatini, penso in grande formato, con il numero 1 e il numero 2 di Calia, che saranno disponibili solo sul sito Bugs per un periodo di 72 ore in edizione illimitatissima e mai più ristampati. Il secondo, invece, è questo qui, una raccolta delle prime tre avventure diciamo esterna che oltretutto ho tutto il cuore che erano. Vabbè, la prima, il nuovo incubo, poi il mausoleo nero e legione. Non erano proprio il massimo, oltretutto qua tu me la fai vedere con questa qua che a me sembra Valery. No, no, Valery questa, no, questa qua sembra un'altra. Oddio, no, questo qua può darsi il mausoleo nero. O non me ricordo, vabbè, non me la ricordo. Comunque, non so proprio quelle più belle uscite, perché erano le prime e è giusto che sia così, anche di Landog le prime storie non so il massimo. O mo mi bastonerete ma che ci stanno nelle prime storie di Landog? Giacolo squartatore, notti di una piena. Con carta da 140 grammi, cover in similpelle, una ponzonatura secco, termovirante, non so che vuol dire, a me a Filorefe mi piaceva di più, però boh non lo so, poi lo vedremo, un bel volumone, non si sa quanto costerà, ma appunto, mettendo il fatto che questi sono delle belle scatole, quella frase come racconti è più importante di cosa racconti per me è agghiacciante. Ed è l'esatto contrario di quello che dovrebbe essere Bugs Comics, cioè una società, una casa editrice in cui cosa racconti è più importante di come lo racconti perché non hai i capitali di chissà che. Ma perché questa scelta di Bugs? Per quale motivo portarsi queste cose qui? Che comunque io non disprezzo perché, ricordatevi bene, sono stato tacciato di incoerenza per questa cosa. non è la stessa operazione di Berserk questa. Non è la stessa operazione di Berserk. In Berserk non esiste un'edizione a basso costo decente. Abbiamo un'edizione specchiata degli anni 90 con dei testi che fanno schifo. Invece, se lo vuoi recuperare con un'edizione a basso costo ti recuperi Bonellidi che sono molto più che dignitosi. Molto più che dignitosi. Al netto che alcuni numeri avevano avuto dei problemi di stampa eccetera eccetera ma sono stati sostituiti. Quindi, al netto di questo vi dico perché si devono fare queste operazioni? Lo dico da due anni perché il fumetto il mercato del fumetto è esploso perché il mercato anzi è imploso in se stesso il mercato del fumetto ormai è seguito dai soliti ci sono soltanto poche eccezioni e riguardano prettamente il fumetto orientale il fumetto italiano il fumetto seriale italiano è stato abbandonato dai più con gli con gli aumenti di prezzo e questo è un dato di fatto e ce lo conferma in modo indiretto Gianmarco Fumasoli perché qua nel sito come sempre fa e io apprezzo Gianmarco quando fa questo perché si che lui è l'oste e quindi dirà che il vino è buono ma ti fa ti dice questa cosa qua la trasparenza del bagarozzo tra le altre cose d'altro andate la legge voi se vi interessano non ho mai preso in giro i nostri lettori ho non ho intenzione di iniziare ora senza quindi fare troppi giri di parole il Bugs Fan fan club non mi ricordo come si chiama servirà per continuare a fare fumetti servirà per continuare a fare fumetti per continuare a fare fumetti prodotti e stampati in Italia fare crescere nuovi autori e permetterci di portare in edicola 100 200 300 pagine inedite ogni singolo mese in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo lui ci sta dicendo chiaramente che se non mette la mano al portafoglio dei collezionisti dando i prodotti che loro desiderano anche l'altra gamba del tavolo cede cioè quella della serialità quella dell'inventiva quella dell'invenzione quella del talent scouting cede mo Gianmarco è losti però io apprezzo quando dice queste cose lo apprezzo come ho apprezzato quando Samuel costava almeno di Dylan Dog come quando ho detto che Samuel costare 4,90 come Dylan Dog no 4,90 come i Bonelli no perché ha un gradino sotto ma non come inventiva eccetera perché spesso Samuel Stern o Callia riescono a farmi vedere delle avventure che magari in altri Bonelli non vivo e non li sto confrontando con Dylan Dog e Dragonero sia chiaro ma negli ultimi due anni Samuel Stern mi è adate di Zeracagnate a Dylan Dog ma ma questa cosa qui questa cosa qui gli va dato atto che è una cosa importante ora però è deflagrata la bomba in casa Bugs e sta bomba qualche uno l'ha voluta analizzare chi? io perché se non mi faccio i fatti miei io non so contento ho fatto questa copertina così un po' veloce con Canva un attimo e ho preso quella di Dylan Dog e poi era ripresa quella di Spider-Man no? eh per cui però è vero Massimiliano Filadore a un certo punto pubblica un post nel quale dice ragazzi io non farò più Samuel Stern esco dal progetto mi vedrete ancora fino al numero 59 ma già da adesso non sono più dentro già da adesso resterò un semplice lettore se volete vedere il video andate a vedere il video perché c'è un video fatto apposta su questa cosa non stiamo a analizzare tutto questo qui vi voglio soltanto dare una precisazione io avevo detto sì ma lo spin off che stava a fa Filadoro che fine fa con Lina Rich oltretutto lui mi ha risposto in modo molto cortese nei commenti ha risposto solo a questo interrogativo io ne ponevo altri evidentemente gli altri non può rispondere ciao Luca posso chiarire almeno uno dei dubbi lo dice il what if di Samuel scritto da me e magistralmente realizzato da Lina Rich uscirà regolarmente quindi su quello non ci saranno problemi ora fatto uno più uno questo deflaglare appunto della crisi in Bugs Comics è evidente il perché rispondetevi da soli seconda cosa invece una bella cosa hanno dato a Sergio Bonelli editore il premio Persephone il premio della Camera dei Diputati per Dampir all'interno del comunicato del premio Persephone Bonelli ammette placidamente che sta estendendo il proprio impatto dal mondo del fumetto a quello del cinema come con Dampir delle serie tv come la serie tv di Dylan Dog e prossimamente del teatro la cosa mi ha mandato fuori di testa perché effettivamente un progetto teatrale su un soggetto Bonelli potrebbe essere incredibilmente bello oltretutto se fosse una compagnia itinerante quindi non un teatro stabile in cui tu stai a Milano e devi andare solo a Milano ma un progetto un po' alla Harry Potter ma itinerante che visita un po' ai vari teatri stabili d'Italia potrebbe essere devastante vado a teatro a vedere una commedia Bonelli a me interessa a me interessa molto e a quelli che dicono eh chi ci va più a teatro io gli rispondo e chi ci va più ne dicola facciamo a chi ci va più dai non mi sembra il caso quindi questa secondo me è una bella notizia è una bella notizia ora gli argomenti sono finiti vabbè c'è il buon Natale di Bonelli andatelo a vedere c'è un bel trailer di Alex Dante che vi ricorda scritto da Gianni Bono il gli auguri di Natale è un bel trailer di Alex Dante che vi ricorda che cosa è successo in questa annualità Bonelli ci sono un sacco di cose interessanti ed anche ed anche da come sono mostrate voi potete vedere il peso politico che hanno i vari attori all'interno di Bonelli una società grande come quella di Bonelli fatta di artisti cioè di gente che di per sé già crede di essere migliore ma non dico in modo in modo cattivo un artista deve essere egocentrico deve essere un egomaniaco per riuscire a fare l'artista altrimenti non ci riuscirebbe poi può essere la persona più brava del mondo ma deve credere che è il migliore di tutti un po' come i piloti di Formula 1 tu non puoi essere un pilota di Formula 1 e dice no ma gli altri sono meglio di me no io sulla pista di passato poi casomai non è vero ma ci provo in tutti i modi e sono convinto di me stesso gli artisti sono la stessa cosa Bonelli che ce ne ha tanti nel suo roster tutti italiani vengono tutti veramente da tutti i personaggi tutta l'esperienza tutte le età eccetera eccetera guardate il peso politico differente che hanno i vari personaggi e all'interno dei vari personaggi le varie firme magari del mercato dei cartonati e poi ci vediamo qua sotto nei commenti ragazzi ho finito la voce e tutto il resto è durato tantissimo sto video lo devo mettere pure online subito perché è praticamente ora che vada che vada online ci tenevo a farlo ci tenevo a farvi auguri di Natale che poi vi rifaccio anche domani col video unbox però grazie grazie veramente grazie a tutti quanti gli abbonati del canale a quelli che decidono veramente di offrirmi il caffè io lo apprezzo tantissimo non è dovuto se non potete non dovete farlo ma se potete veramente mi dà una grande mano perché sì perché sì perché è proprio una mano morale come di lui andiamoci a prendere un caffè insieme e parliamo un po' di fumetti mi manca mi manca tanto mi manca nella mia città questa cosa mi manca anche nella fumetteria che frequento mordi e fuggi sono andato pure l'altro giorno sono entrato dieci minuti e sono uscito forse neanche dieci minuti non si riesce proprio a avere un dialogo che perché la fumetteria è piccola e io sinceramente non l'ho mai frequentata da questo punto di vista mi piacerebbe fare fare magari degli incontri all'interno della fumetteria potrebbe essere potrebbe essere carino come potrebbe essere un disastro completo perché poi alla fine quello succede mi piacciono le i luoghi in cui si fanno degli incontri con gli autori per esempio perché più che l'autore tu vai a conoscere anche altri appassionati e secondo me questo è il plus non tanto di incontrare l'autore a me fanno una tristezza quelli che si mettono con tutto il rispetto ve la dico fanno una tristezza quelli che si mettono in fila per per le firme degli autori no e che hanno come un unico scopo la firma dell'autore perché in realtà in quella fila la cosa bella è vivere la fila stessa è un po' come quel vecchio adagio che dice nel viaggio la parte più bella non è l'arrivo ma è il viaggio stesso io credo che sia quello difatti i momenti più belli che ho vissuto con gli altri dal punto di vista del fumetto esulano un po' dall'incontro dall'incontro clinico potrei dire con l'autore cioè il fatto di stare là davanti fargli due domande e io da sto punto di vista sono privilegiato perché spesso posso chiedere di fare due domande a parte appartato non all'interno del pubblico dai comunque dall'anno prossimo potrebbero tornare le mie interviste a fine anno vi dico anche un'altra cosa io non è che ho sospeso le interviste perché non voglio più parla con nessuno e perché ormai le fanno tutti cioè raga prima che veramente sì i grossi realizzavano le interviste ma sul fumetto italiano c'era poco e nulla è bello vedere che poi qualcosa funziona soltanto che io poi voglio fare lo step successivo c'è un paio di idee speriamo di portarle di portarle in pratica e vorrei riniziare il matagazzo manga con Max speriamo che vedi queste 400.000 copie del suo manga le venda immediatamente così c'è un po' più di tempo anche da dedicare a me e a noi nonostante appunto quest'anno l'abbiamo portato all'Aquila è stata una grande cosa lui è Carmine Gian Domenico vabbè io mi sto a prolungare non c'entra nulla grazie buon Natale grazie abbonati grazie a chi mette like grazie a chi passa un attimo grazie a chi è iscritto telegram grazie a chi ho bannato perché perché mi ha fatto un po' crescere da questo punto di vista ciao belli grazie a chi è iscritto